Abbiamo fatto una lunga riunione oggi sulle prospettive del pecorino romano nel mondo. Siamo nei giorni e nei mesi in cui si parla di Expo. Noi abbiamo un grandissimo veicolo commerciale per creare lavoro, benessere, ricchezza, punto lavoro soprattutto. Dobbiamo metterci tutti insieme per capire come crescere rapidamente. Oggi abbiamo fatto questo. Mi pare che ci sia una condivisione, che l'opportunità c'è tutta, che insieme dobbiamo capire quali mercati esteri, soprattutto aggredire, sono quelli che stanno cominciando ad apprezzare i formaggi di qualità e che nei prossimi anni cresceranno molto rapidamente. Qualche nostra impresa è già entrata, dobbiamo mettere insieme le forze per rinforzare questo processo. Abbiamo un sacco di qualità da vendere, abbiamo un territorio da vendere che ha alto prestigio e che trasferisce il prestigio nella qualità dei propri prodotti. Possiamo fare moltissimo e oggi abbiamo ragionato molto operativamente su questo. Oggi ci siamo incontrati qui in Presidenza con il Presidente della Giunta e i Consorzi di tutela del Pecorino Romano e del Pecorino Sardo, una riunione attesa nella quale si doveva fare il punto della situazione. Stiamo vivendo un momento particolarmente favorevole per il comparto, i prezzi del Pecorino Romano più alti mai registrati in questi ultimi anni e riteniamo che questo momento sia un momento favorevole per fare in modo che un'attenta programmazione del comparto consenta che il prezzo così raggiunto non sia un picco ma si debba stabilizzare. Quindi per raggiungere questo obiettivo è necessario programmare, capire e conoscere le dinamiche dei mercati, prevenirle e soprattutto riorganizzare il mondo produttivo. Organizzarlo mettendo insieme il mondo della trasformazione con il mondo della produzione e quindi a breve ci incontreremo anche con i produttori, quindi le organizzazioni di categoria per fare il punto. Tanti sono stati gli argomenti trattati oggi a partire dal progetto presentato e sul quale il Consorzio del Pecorino Romano ha lavorato in questi mesi della programmazione dell'offerta produttiva. Un progetto sul quale adesso l'assessorato si dovrà concentrare per poi discuterlo a livello ministeriale che ha l'obiettivo di fare in modo che contingentando le produzioni del pecorino romano si possa raggiungere una calmirazione del prezzo e mantenere il prezzo del pecorino così alto a questi livelli. Ma ancora abbiamo ragionato come si deve lavorare per promuovere i nostri prodotti, quindi costruire un nuovo programma di comunicazione del nostro prodotto, raccontare che il pecorino romano ha un basso contenuto di lattosio, anzi può essere considerato un prodotto lattosio free, è un'arma di commerciale incredibile che noi abbiamo in mano. È una leva di marketing che finora non abbiamo saputo utilizzare. Raccontare che il nostro pecorino, sia romano che sardo, ha un alto contenuto di acidi grassi insaturi è altrettanto una leva commerciale fortissima. Dobbiamo imparare a raccontare queste cose e intercettare i nuovi consumatori, quindi nuove fette di mercato, i nuovi paesi, diversificare i mercati di riferimento è assolutamente fondamentale. Per questo a breve ci troveremo di nuovo con l'assessorato all'industria e con i vari uffici e agenzie della regione e i consorzi naturalmente per capire quali sono i nostri paesi di obiettivo e i paesi sui quali dobbiamo puntare con queste nuove strategie di commercializzazione. Abbiamo anche ragionato su come programmare i 3 milioni che sono stati destinati a finanziare per l'internazionalizzazione dei prodotti e a breve quindi saremo in grado di avere un piano completo.